Terzo gruppo di canzoni, Tipi Tipi Ti di Panzeri, Pace e Pilat. E al podio il maestro Franco Monaldi e canta Mario Tessuto. Quando io ti venivo a cercare mi aprivi la porta, ti dicevo se tu sei contenta ti porto in città. Ogni volta mi hai detto di sì e venivi a ballare con me, mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi 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 dove vai? Tipi 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 cosa vai? Tipi 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 come vai? Sei innamorato di lei? C'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu, c'era scritto di vuole bene, ma non era la verità. Tipi 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 dove vai? Tipi 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 con chi sei? Tipi 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 come vai? E questa sera non c'è. Come mai questa sera maestro tu sbagli e le note? Con la gente che c'è ma perché, ma perché guardi me? Oramai l'hai capito anche tu, che l'amore per me non c'è più, ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così. Tipi 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 dove vai? Tipi 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 come vai? Sei innamorato di lei? Tipi 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 E c'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu, c'era scritto di vuole bene, ma non era la verità. Dibidibidibidiko me vai, dibidibidibidiko z'apai, dibidibidibidiko me vai, tu starmi dentro con me.